Salve a tutti, in questo video vi mostro i restanti jakey crestati holdback 2010. Nella prima parte del video mostro due femminucce di due cucciolate differenti. Grazie. 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 In questa parte del video, invece, mostro due probabili femminucce della stessa cucciolata. Grazie. 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 In questo ultimo spezzone video possiamo vedere due non sessati, probabilmente questo in sovraimpressione maschietto Harley Partial Pinstripe. Grazie a tutti per l'attenzione, spero che il video vi sia piaciuto, al prossimo, ciao! Grazie a tutti.